Le memorie della fede, museo diffuso del territorio laziale, sono le opere della mostra sculture preziose Oreficeria Sacra nel Lazio dal XIII al XVIII secolo, in Vaticano al braccio di Carlo Magno fino al 30 giugno. I Musei Vaticani e la soprintendenza per i beni storici, artistici ed etno-antropologici del Lazio hanno selezionato dal patrimonio devozionale delle diocesi regionali antiche e preziose sculture in argento, bronzo, rame dorato, ad accogliere i visitatori dell'esposizione la statua equestre di Sant'Ambrogio Martire in argento fuso e cesellato, proveniente dalla concattedrale di Ferentino, una delle curatrici della mostra Benedetta Montevecchi. Uno degli intenti di questa mostra è proprio di far capire che queste opere sono delle sculture esattamente come le grandi sculture in legno intagliato o in marmo scolpito, anche se di solito quando si parla di oreficeria, di argenti, di rame dorato, di rame argentato, si parla di arte minore. In realtà questa è un'arte che minore non è, è un'arte veramente di grandissima qualità, di grandissima importanza, di grandissima valenza storica e religiosa. Quindi il valore aggiunto di queste opere bellissime è che sono delle opere di devozione. Si snoda quindi un percorso di statue, reliquiari, croci processionali, ostensori che conduce dal tardo medioevo al tardo barocco. Si tratta dei ricordi terreni e tangibili per lo più di santi martiri che con la loro morte hanno testimoniato la fede. La Santa Felicità di Montefiascone che è una santa con un aspetto veramente austero che testimonia diciamo i momenti drammatici della vita. Sono naturalmente delle vite trasformate dal racconto geografico, quindi ci sono dei fondamenti storici e poi c'è la leggenda che però si fonde in maniera molto interessante con quelle che sono effettivamente le notizie storiche e poi queste figure in qualche modo incarnano, rappresentano proprio questo insieme di religiosità e di devozione che sfocia diciamo anche nella tradizione e nella devozione popolare. Un patrimonio dunque religioso e storico che va oltre i confini del Lazio. Anna Imponente, co-curatrice dell'esposizione. È un'occasione rara di vedere opere che i locali hanno la possibilità di vedere in alcuni casi una volta l'anno nell'ambito di queste feste patronali, ma qui c'è un'occasione particolare di poterle vedere da vicino, cioè di poter ammirare nei dettagli questo microcosmo di immagini che necessita di una lettura lenta, di una lettura accurata che ci fa cogliere dei particolari che altrimenti andrebbero persi.